questi sono gli ingredienti per realizzare il nostro pancake allora iniziamo subito ci serviranno 112 grammi di albume d'uovo poi 25 grammi di latte io ormai sono che ci hanno 25 ml di latte però voi vi potete regolare anche ad occhio quando vedete del pancake ancora si vede ancora la farina le proteine voi ne aggiungete però il composto deve risultare non liquido poi vi farò vedere poi 20 grammi di queste proteine in polvere di prodiz gusto cioccolato che sono davvero una cosa eccezionale sembra di mangiare nisquick c'è adoro e poi 40 grammi di questa farina d'avena good morning questa qui è gusto brown ed è fantastica e poi bicarbonato e limone per la lievitazione ma iniziamo subito ad assemblare tutti gli ingredienti che la fame si fa sentire siamo con 40 grammi di questa farina qui a good morning davvero eccezionale io la preferisco a quella la di produs quindi andiamo ad aggiungere 40 grammi e poi andiamo ad aggiungere 20 grammi di proteine in polveri questa qui in polvere scusatemi ma che mattina io sono ancora mezza addormentata io veramente con queste proteine mi ci sono davvero davvero bene non mi sono mai trovata con delle proteine così bene eccezionale ok 20 grammi poi amalgamiamo tutti gli ingredienti secchi insieme e aggiungiamo 112 ml di albume e iniziamo ad amalgamare il tutto vi faccio vedere il composto adesso come risulta allora da come potete vedere il composto già così può andare bene perché guardate il composto deve essere tipo non tipo deve essere così non troppo liquido ma neanche troppo duro quindi io ci aggiungo giusto 10 ml di latte giusto un goccio per dare è un po di mo per dare anche un po di morbidezza in più al nostro pancake aggiungiamo il nostro latte ok può bastare giusto per dare un po di morbidezza infatti vedete c'è un profumo esagerato adoro adesso andiamo con bicarbonato e limone per la lievitazione mi raccomando sempre il limone sulla bicarbonato così da avere una lievitazione maggiore bicarbonato e limone non c'è una dose specifica per il limone mischiamo tutto fate sempre scomparire la schiuma bianca altrimenti nel panchicco non vi viene bene perché dopo si sentirà di bicarbonato eccolo qui il nostro impasto è pronto per essere imparellato e pronto quindi andiamo subito allora io non vi farò vedere ma lo metterò in una padellina in un padellino antiaderente tutto composto per 10 minuti poi fiamma bassissima mi raccomando fiamma bassa per 10 minuti poi giro il pancake faccio stare 5 minuti e poi andiamo a papparlo mentre aspetto ok il pancake là dentro cuoce scusate mi sono ritenuta fette biscottate due fette biscottate con la marmellata la fame troppa sono trascorsi i nostri 10 minuti da come potete vedere il pancake secondo una mamma fuori difficile è pronto quindi adesso io lo giro lo faccio stare giusto 5 minuti per poi farlo raffreddare e guarnirlo ma questo ci pensiamo dopo quando girate il pancake deve essere così come vedete bello dorato marroncino e quindi adesso rimetto il coperchio e cinque minuti come potete vedere è morbidissimo eccolo qui si è anche raffreddato e adesso andiamo a mettere 10 grammi di io questo qui è il burro da rachidi organico di prozis e poi andremo a guarnire tutto con queste scaldi di cocco quindi 5 6 grammi buona un così qui Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A parte che devo dire che quel pancake mi ha stanziato tantissimo quindi sono... Per un momento arriviamo a casa avrò famissima, quindi siete un po' che sto sfatta, però io adoro le line di mattina e quindi... Sono appena arrivata a casa. Ho fatto 5 km a piedi, quindi potete capirmi come sto male. Sì, guardate, è nata la cuginetta, quindi adesso si sale sopra, sto muorendo. Questo giubbino dovevi fare una morte, però è bello caldo, ma fuori sembra estate veramente, sembra tipo... L'ultimo il 15 agosto, ma quasi sono arrivata, ok? Eccomi qui a casa. Il mio obiettivo era quello di fare 2-3 km, ma mi sono messa a camminare e infatti, cioè io sto morendo, mi sono messa a camminare e i km aumentavano sempre di più. Mi sono fatta il giro più lungo del mondo, però ci sta, ci sta, ci sta, perché io odio fare cardio sul tappetino. Cioè, per me ne ho perdita di tempo, mettiti là? No, mi piace camminare all'aria aperta, sto morendo. Quindi adesso mi infiono in doccia e andiamo a cucinare. Cioè, si stanno appannando anche gli occhiali. Eccoci qui arrivati al pranzo, allora si va bene la lucina. Allora, per pranzo, barra post workout, farò questi carciofi, poi zucca, albume e pasta integrale. Allora, per prima di tutto vado a pesare. Allora, questi sono sui 200 grammi, poi vi lascio tutto. Quindi adesso sminuzzo il tutto e lo metto in questa pentola, pesandolo e poi vi lascio scritto tutto, come sempre anche macro e tutto. E poi vi faccio vedere procedimento per procedimento. Quindi vado a tagliare 100 grammi di zucca e questo, non mi sbaglio, sono 200 grammi e vado a metterli nella pentola. Eccolo qui, ho messo tutto in una pentola. Sono 170 grammi di carciofi e 100 grammi di zucca. Se sei dell'acqua a bere questo in cucina. Eccolo qui, ho messo sul fuoco, fiamma giusto un po' così per far riscaldare. Perché poi aggiungerò i 250 ml di albume. Vado a pesare anche la pasta, questa qua di tremolini, farfalle integrali. Andiamo ad aggerare. Ok. E facciamo 100 grammi. 94, ma va bene lo stesso. Ed è finito. Qua l'acqua tra 5 minuti bolle, quindi andiamo a calare la pasta. Qui a fiamma, basta, basta, basta. Sto facendo riscaldare un po' la zucca e i carciofi senza acqua, senza olio. Perché, come ben sapete, mi piace proprio mettere l'olio a crudo. E quindi un po' così. Infatti mi dè un po' di fumino. Poi dopo vado a pesare l'albume. L'albume e quando la pasta è quasi pronta, verso l'albume e cuocio. Buono, buono, buono. Adoro i carciofi. Visto che la pasta è quasi pronta, altri 2-3 minuti, vado a versare il nostro albume qui dentro. Vediamo. Giusto 200... Il mio era 250 grammi, 255. Perfetto. E quindi eccolo qui, ho messo ancora a fiamma bassa. E quindi, vedrete che l'albume si farà verde, perché i carciofi sprigionano il colore, quindi diventerà verde. Sì, questa ricetta io già l'ho provata, quindi già so. Quindi adesso aspettiamo che cuoce. E poi ci aggiungiamo la pasta. Ok, eccolo qui. Quindi adesso amalgamiamo il tutto. Ecco qui il nostro post-workout. Vi lascio qui tutti i macros. Eccolo qui. E adesso iniziamo a mangiare, perché ho veramente fame. E vi posso assicurare che se proverete questa combo, fatemi sapere, taggatemi su Instagram, mi raccomando. E seguitemi su Instagram, fate i bravi. E quindi vi fate sapere se riproducerete di nuovo questa fit carbonara verduriana. Finito. Ecco qui il piatto finito. Adesso si va a studiare. E poi ci vediamo con la merendina. Merenda un po' veloce. Allora, come merenda andrò a mangiare uno yogurt greco 0%. Questo qui è 150 grammi, però alla fine sono 100, pesandolo, sono 137. Poi un'ottima fonte di proteine, poi un'ottima forma di carbo. Ed è una banana, vedete così che è scura, però dentro è normale, quindi va bene. Poi lo yogurt dolce piccato con le yummy drops al cioccolato che io non ho capito, ve lo dico qui su YouTube. Allora, quella è la vaniglia, tutto ok, normale, posso tenerla anche in borsa, non succede niente. Ma questa è la seconda confezione che mi esce così, perde. Non ho capito perché, ma perde. Fatemi sapere se voi avete scontrato problemi con questo qui a gusto cioccolato, ma boh. Poi ho un'ottima fonte di grassi, sono nocciole, mandorle, uvetta, noci, anacardi, eccoli qui. E vi sto parlando di questo qua, fruit mix. Devo dire la verità, è qualcosa di eccezionale, quindi ottima forma di grassi. E questa qui è la mia merenda. Questa è la cena. Allora abbiamo tre uova, poi 75 grammi di benenzale arrostite. Questi qua sono i panini, questi qua di Prozis, Leanne Burger, e poi questo Zero Ketchup, per riguardire il tutto. Quindi adesso con Pung vi faccio vedere. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti.